Ciao Braccio come stai? So tre giorni che non te vedo. Ti avevo dato per disperso. Ciao Letizia. Come vuoi che sto? Sto a cerca qualcuno che me presta un gomito, che io er mio l'ho finito, ho provato a magnamme er ginocchio ma non ci arrivo. Dai Braccio su non fa così? Hai sempre detto che chi ti fa riuma non perde mai. E c'hai ragione Letizia. Ma so tre giorni che non dormo, so andato pure da o psicologo amico mio, ma quello c'aveva Airposter de Turone nell'ambulatorio. Appena l'ho visto so svenuto e ho sbattuto la cappoccia sua gigantografia de Tiotti mentre da Aircarcio a Balotelli. Non me succedeva dai tempi dal finale de Champignon League, contro il Liverpool. Deve essere brutto Braccio, mi dispiace ma cerca di riprenderti. E come faccio Letizia? Avevo pure comprato 27 coccarde a forma di stella da attacca su tutte le tute della shell che c'ho a casa. Un silos de vernice per imbrattar Roma. E 48 fascette da Rambo. Ho speso 1000 euro mononcio più una lira e me sa che me tocca vendermi i castori. Beh allora t'hanno fatto un bono. E che vor di? Vor di che ti pigli under culo. Come al solito Braccio fai troppo lo sbruffone, parlavi tanto di vittoria, lo sai quando sputti per aria te ricasca sempre in testa. E c'hai ragione Letizia. Quello che me rode poi è che voi manco avete festeggiato, io con l'amichi mis eravamo pure scritti i discorsi da fare in pubblico. Tipo cloni. Mo me tocca impegnamme a catenina d'oro d'anchilo corlupeto pe magna. Vabbè Braccio ma noi non semo partenopei come voi. Noi godemo dentro. E la gioia nostra è non sentire parla. Però Braccio la catenina no non te la vende. Che devo fa lettime piangere core ma o devo fa? Ora sti giorni che fai? Ma stavo a pensare di andare al paese mio d'origine in Abruzzo qualche settimana. E che fai lì? C'ho la cassetta con tutti i rigori pari ommo, dati nella storia, è bellissima, nei momenti tristi come questi ma rivedo sempre. E beh solo quello fai lì? No ma che. Ho deciso di fondare il Movimento Senza Stelle. E che sto movimento? È un movimento per spiegare a tutti i tifosi da Arryomma come esse srotolano le coreografie. Sai sono anni che non le facciamo più dopo la figuraccia fatta al derby il 18 aprile del 2010. Ma come a noi invece ci parlate dei permessi? È lo soliti. Ma lo sai noi semo da Arryomma. Vabbè Braccio oggi pomeriggio invece che fai? Vado a compramme il casco nuovo. Che quello mio giallo e rozzo sti giorni non lo posso usare. Ma perché dove devi andare? Vado coer tartaglia a Riccia. A fa che? Me vado a Magna Trippa e poi se me pia male me butto dar ponte. Lascia perde Braccio, lo so che non te passa più ma la vita va avanti. C'hai ragione Leti, ma ho smacco è stato troppo forte. Me vi è da piagne. Come facciamo siete diventati i padroni da Roma? Te sbagli Braccio, lo semo sempre stati. Vabbè a sto punto, dopo sti fatti, me sa proprio che ma vado a pigliande al culo. Vabbè a sto punto, dopo sti fatti, me sa proprio che ma vado a pigliande al culo. Vabbè a sto punto, dopo sti fatti, me sa proprio che ma vado a pigliande al culo. Grazie.